Pala Andrea Ion di Città di Castello, domenica mattina è quasi l'ora di pranzo, l'appetito viene mangiando, Gian Paolo Rossi siamo nella seconda fase della prima divisione femminile con Tressina che oggi vince a Città di Castello abbastanza lentamente. Sì è stata una bella partita, le ragazze hanno giocato bene, stiamo in questo momento prendendo le soddisfazioni del lavoro che abbiamo fatto durante l'anno, siamo partiti con qualche difficoltà però allenandoci in modo serio in palestra e continuando a credere nel lavoro anche se ci sono state tante sconfitte durante l'anno, ecco si possono vedere i risultati. Siamo nella seconda fase, si lotta per non retrocedere, difficoltà durante l'anno anche per quanto riguarda l'impiantistica, la possibilità di allenarsi in maniera continua però tanta abnegazione e come tanto carattere oggi nei momenti importanti della partita. Sì le ragazze sono state bravissime, hanno dimostrato che il lavoro fatto in palestra serve e quindi hanno giocato un'ottima partita. Poi giocare qui a Città di Castello è sempre uno stimolo in più. Facciamo le carte a questo fine di campionato così combattuto e tribolato però se il carattere è questo. Sì no è finita il girone d'andata, noi abbiamo vinto tre partite di cui una 3 a 2, abbiamo perso una partita 3 a 2 quindi siamo molto soddisfatti. Speriamo di continuare il cammino in questo modo però va benissimo così. Una prima divisione femminile che deve servire un pochino anche per chi c'è dietro. Come vi state organizzando o come pensate di continuare a lavorare a Trestina? A Trestina dal punto di vista di atleti abbiamo un parco atleti di circa 60 atleti quindi stiamo lavorando con grosse difficoltà perché avremo bisogno anche del sostegno di Trestina, avremo bisogno del sostegno economico di Trestina che questo purtroppo ci manca. Quindi per poter continuare ad andare avanti e per poter continuare a far giocare le ragazze a Trestina avremo bisogno un po' dell'aiuto di tutto Trestina. Appena terminata la partita, free time Trestina a 3, Gerardi, cartoedit 1, una partita importante nella seconda fase, fine girone di andata dei play out di prima divisione femminile. Siamo con Valerio Giunti, tecnico della squadra di Cintere Castello. Prima con Gianpaolo abbiamo detto, ho detto io una vittoria abbastanza netta anche se ci sono stati momenti e passaggi topici che potevano far cambiare ad un certo punto, non dico l'incontro ma sicuramente renderlo ancora più interessante. Sì effettivamente è stata una partita dai due volti dove non siamo riusciti a sfruttare i nostri punti di forza e a non arginare quelli che sono quelli della squadra di Trestina che effettivamente ha difeso tantissimo, sono state veramente brave, anzi faccio complimenti a questa squadra per la tenacia, quella che non abbiamo avuto noi, purtroppo paghiamo il fatto che avevamo in squadra anche il libero del 2000 quindi insomma tutto sommato noi siamo sempre più giovani tra virgolette. Niente ci sta, noi non ce lo possiamo più permettere perché perdere così poche partite ci condagna ad essere all'ultimo posto e se ci vogliamo salvare dobbiamo fare uno sforzo collettivo a partire da me, vediamo un pochino quello che succede in settimana e già pensiamo al prossimo impegno. Comunque sempre tanti giovani in campo, obbligatoriamente, spontaneamente e spintaneamente abbiamo capito. Sì, diciamo che il gioco forza per mancanza di alcune tra le malate e le in vacanza abbiamo dovuto richiedere a Madao, l'allenatore dell'Under 16 della Serie C, se ci poteva appoggiare qualche ragazza che fanno ovviamente comodo e devo dire complimenti anche a lui perché il libero è è molto bravo, è ben impostato, anche l'altro lato è molto bravo, quindi poi noi siamo tutta una grande famiglia cioè non ci sono cose strane in queste cose qui. Appuntamento ancora in casa per la prima di ritorno, vero? Sì, giochiamo in casa la prima di ritorno contro Spoleto, abbiamo bisogno di resettare, di ripartire l'abbiamo fatto un 3-2, giocando anche una discreta pallavolo, ora speriamo di fare un pochino quadrato vediamo un po' di portare punti, abbiamo bisogno di muovere la classifica assolutamente.